in questo mercoledì santo il mio saluto il mio pensiero insieme a san francesco d'assisi patrono d'italia santo amatissimo che ha vissuto sul proprio corpo e nella propria esperienza la passione di gesù e ha trasformato in dolore in forza d'amore ed è questa la preghiera che facciamo per noi in questi giorni di grande dolore e di prova chiediamo il signore di essere l'uno per l'altro forza d'amore e allora voglio fare un po nostre le parole della bella preghiera semplice di san francesco che reciterai insieme a voi in questa giornata signore fa di me uno strumento della tua pace dove odio che io porti l'amore dove offesa che io porti il perdono dove discordia che io porti l'unione dove il dubbio che io porti la fede dove l'errore che io porti la verità dove è disperazione che io porti la speranza dove tristezza che io porti la gioia dove sono le tenebre che io porti la luce maestro fa che io non cerchi tanto di essere amato e di consolare quanto di consolare di essere compreso quanto di comprendere di essere amato quanto di amare perché è dando che si riceve perdonando che si è perdonati morendo che si risuscita alla vita eterna che bella questa preghiera signore dove è disperazione che io porti la speranza dove tenebre che io porti luce in questo momento di disperazione di tenebre in tanti luoghi in tanti frangenti più che mai abbiamo bisogno di portare la luce di una parola di una parola che consola ma anche di una parola che aiuta di gesti concreti san francesco ci insegna che è possibile farlo la fede la solidarietà la responsabilità l'umanità si nutre di amore perché là dove c'è la disperazione si possa portare la speranza possiamo essere anche noi portatore di speranza san francesco d'assisi ci aiuti ci assista e ci accompagni sempre soprattutto in questo momento